Il fatto che questo governo è nato a settembre e quindi i ritardi con cui si è portata la legge di bilancio in Senato sono conseguenza anche di quel fatto. Dopodiché, urso e testimone, contrariamente a quello che è successo allo scorso anno, al Senato si è discusso, c'è stato il contributo anche dell'opposizione nella discussione, non solo nella discussione, ma anche nella definizione di alcune parti. Per quello il governo è intervenuto fin troppo in corso d'opera a modificare, evidentemente si sono dovute aggiustare delle misure che, visto il ritardo con cui si è arrivati, dovevano essere aggiustate. Ora però, noi oggi votiamo con la fiducia, un massimo emendamento che è stato discusso ampiamente dal Parlamento, ampiamente dal Parlamento. Noi la scorsa legislatura, per questo trovo il ricorso alla consulta, noi la scorsa legislatura alla Camera successe quello che si è visto, cioè fu votata la fiducia senza emendamenti, cioè non si ascoltò il Parlamento. Al Senato noi votammo senza neanche poter leggere il testo che c'era arrivato e da lì facemmo ricorso alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale disse che quella procedura era sbagliata, ma quella di quest'anno è molto diversa, nel senso che almeno una Camera ha discusso e ci sono io credo i tempi anche alla Camera per fare una discussione, per vederlo, per verificare che le cose siano a posto. Poi probabilmente si andrà alla fiducia anche per evitare l'esercizio provvisorio, sicuramente non è la cosa ottimale, io penso che vada rispettato il mandato costituzionale e bisogna cercare di fare le cose per bene dando a tutte e due le Camere la possibilità di intervenire, non è successo, ma ripeto mi pare più che giustificato il ragionamento, è ingiustificabile il giudizio che sta dando Urso, nel senso che il Senato ha discusso, contrariamente a quello che è successo l'altra volta, ha discusso e modificato la legge di bilancio per praticamente due mesi, con il contributo di tutti, insisto anche delle opposizioni, posso citare fior di emendamenti anche costosi delle opposizioni che sono stati approvati. La scorsa decisione non successe nulla, il Parlamento non fece nulla, la seconda lettura del Senato di cui parla, in cui abbiamo esaminato, non è mai esistita, sono venuti, non abbiamo neanche potuto leggere, non sapevamo cosa c'era scritto, non è passato in commissione, andò direttamente lì. Dopodiché è vero, anch'io avrei preferito, tutti noi avremmo preferito un percorso diverso, diciamo tradizionale con le tre letture, però qui i tempi contano e il fatto che il governo sia entrato in carica a settembre comportava il fatto che si dovesse decidere una strategia economica, mettere in campo la finanziaria, discuterla, migliorarla e questo ha sicuramente allungato i tempi.